Siamo fra di noi, e tu, e tu, e tu, tu sei arrivato, mi hai guardato, e allora tutto è cambiato, perché mi sei scoppiato dentro al cuore, all'improvviso, all'improvviso, e non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato, come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva, all'improvviso, per te. Ora, io non ho capito ancora, non so come finire, quello che succederà. Ma tu, ma tu, ma tu, tu l'hai capito, l'hai capito, ho visto, hai cambiato, che tu sei scoppiato dentro al cuore, all'improvviso, all'improvviso, e non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato, come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva, all'improvviso, all'improvviso, per te, mi sento pianto dentro al cuore, all'improvviso, all'improvviso, e non so perché, non so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato, come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva, all'improvviso, per te. Ma che brava, facciamo un bel applauso, facciamo un bel applauso a Paola, grazie Paola.